Io mi presento qui da voi, voglio dire che questa è una giornata estremamente impegnativa, con le armi pesantemente spuntate, perché tutto quello che mi ero preparata da dire è già stato detto, volevo parlarvi di quanto mandano i big data, volevo parlarvi di come possono essere utilizzati, volevo parlarvi di people, volevo parlarvi di clienti, nulla, hanno parlato di tutto e tante di queste cose che hanno detto ci riguardano direttamente, addirittura Bertolino ieri, probabilmente voi non ci avete fatto caso, ma parlando di quella fantastica società che produce macchine del caffè e che produce macchine del caffè pensando a come il consumatore finale vorrebbe bere il caffè, lo stesso caffè che beve, buono, mica tanto a Milano, buono, a Roma, magari in Finlandia, quindi ha fatto un progetto, effettivamente ha fatto un progetto di IoT estremamente interessante e un esempio di quel C2B di cui parlava Baban prima. Lui non l'ha detto perché non lo poteva dire, ma io sì che lo posso dire perché ho un nostro cliente della Cimbali, la Cimbali, conoscete ovviamente, no? Quindi la Cimbali ha messo in piedi un progetto in base al quale controlla tutte le macchine che ha distribuite nel mondo in termini di qualità della pulizia, di pressione dell'acqua, di umidità del caffè, eccetera, eccetera, in modo tale da andare incontro e presentare un'unica qualità di prodotto servizio finito in giro per il mondo ai consumatori di caffè prodotti con la Cimbali, ricordatevi la Cimbali. E quindi che cosa vi dico di più? Donato Giacobone che cosa ha fatto? Mi ha bruciato un altro caso di cui assolutamente volevo parlare e tra l'altro un altro caso C2B in onore a Baban nuovamente. Ma questo è un caso che voi, vedo tanti uomini qua, ma anche le donne insomma, no? Che conoscono tantissimo perché è un mito, è un sogno, è un piacere anche per quelli che non vanno in moto. Una società che dalla produzione dell'emissione dell'ordine, dell'ordine personalizzato, quindi della moto, al ritiro della moto presso la casa del cliente, ha ridotto i tempi da 21 giorni, insomma diciamoci la verità, non erano poi così male, no? A 6 ore. Chi è? Donato Giacobone non lo poteva dire, ma io lo dico perché sono autorizzata. Harley Davidson ha fatto questo e non solo. Con questo tipo di ottimizzazione e digitalizzazione interna è arrivata anche al risultato di massimizzare poi il post vendita, che è uno di quei temi, e conoscete, no? Quindi i guidatori di Harley Davidson, è uno di quei temi su cui realizza dei margini significativi. Parlo di Harley Davidson come un caso di C2B, mi piace tantissimo, però poi io sono italiana, non è partito il video, ma le nostre soluzioni che sono al top dell'IoT, del real time, si chiamano SAP Leonardo, e io che sono italiana e che so che Luca Sacchi è in sala di Piaggio, gli chiederei di aiutarmi, quindi con una brevissima battuta, su che cosa Piaggio sta facendo anche con noi in questi temi. Piaggio, una realtà che sta assolutamente, diciamo, stravolgendo e ancora migliorando questo concetto. Vieni Luca, se no non ti vedono. Entro tra l'altro un po' come fuori scaletta, un po' come un guest al concerto. Ma non ci importano le scalette, se non riusciamo ad adattarci alle situazioni che cambiano. Io in Piaggio mi occupo dell'innovazione strategica e dei progetti futuri, progetti in termini prodotto e servizio. Quindi perché io parlo con SAP così spesso? Perché l'IoT sappiamo che di per sé non vale niente, a meno che non riesca a darci delle informazioni che hanno dei valori a noi o ai nostri consumatori. Parlerò di noi perché per l'altro consumatore si è chiacchierato abbastanza e per collegarsi anche al sito B che dicevamo prima. Nel mondo automotive, come sapete, uno dei grossi problemi è che i dati sull'utilizzo reale del veicolo erano aggregati. Quindi da una parte si chiedeva all'utente come usava il veicolo e ti raccontava le storie spesso con un percepito sbagliato. E dall'altra parte si sapevano dei valori aggregati quando il veicolo veniva portato a fare il tagliando. Quindi sostanzialmente quando sostituivo pastiglie freno o dei componenti capivo che lui deve aver fatto dei chilometri. Ma io sino a ieri sostanzialmente non sapevo se questa persona aveva fatto 100 chilometri una volta sola o lo usava poco tutti i giorni o come lo usava in due da solo. E immaginate che rispetto al mondo di cui abbiamo parlato questi giorni, della modalità evoluta e di come evolverà, è complicatissimo. Quindi tutta questa informazione mi permette, lato visione futura, di capire meglio qual è il reale utilizzo rispetto al dichiarato quindi anche sapere il reale utilizzo rispetto alle aspirazioni o all'immaginario che è comunque un valore perché non vuol dire che io poi faccio la moto da solo quantitativa, non so come dire. Però mi serve per comprare queste cose, mi serve per capire come calibrare meglio un prodotto e in qualche modo capisco meglio il sì che non viene soltanto dal consumatore come dichiarato ma il sì derivante dal veicolo stesso e dalla connettività stessa. E quindi è una concessione ampia di capacità d'ascolto, no? Che è anche quello di cui si parlava stamattina che è fondamentale. E per elaborare questa capacità di ascolto appunto usiamo le vostre piattaforme per capire meglio, far emergere meglio le informazioni. E' indifferente. Sto scherzando Luca. Grazie mille Luca a questo momento. Salve, grazie. Grazie, grazie Luca. Tre minuti, tre minuti e trentasette. Per me il rispetto dei tempi è un'ossessione perché sono teutonica, no? Quindi l'avete, il via è molto chiaro. Abbiamo parlato di manifattura. Abbiamo parlato, bellissimo questo concetto di si to be o di o di, perché di questo abbiamo parlato di be to be to si to be, no? Ok. Ma abbiamo parlato di manifattura, di Industri 4.0. Potrei parlare, ma ne abbiamo già parlato nei fatti, di supply chain allargata, no? Quindi di manufacturing distribuito. Ma abbiamo anche parlato, adesso non mi ricordo chi più in giornata, ha fatto un commento molto interessante. Ha detto, ma ha senso parlare di categorie merceologiche? Ha senso parlare di Industri? Noi siamo un'azienda che tradizionalmente ha sviluppato conoscenze, sviluppato prodotti per oltre 25 Industri. Questo è un grande patrimonio. Ma oggi ha senso parlare di Industri. Chi non conosce l'UPS? Tutti conoscete l'UPS, no? Quindi l'UPS faceva un mestiere molto semplice. Portava i pacchi? Portava i pacchi. Una cosa che facciamo anche noi in Italia, abbiamo qualche azienda che lo fa, no? Sapete cosa fa oggi l'UPS? Oltre, ovviamente, a consegnare i pacchi, produce. L'UPS si è dotata di apparecchiature di stampa 3D, quindi il famoso additive manufacturing. Ha fatto accordi con produttori di parti di ricambio, soprattutto di materiale plastico, ma anche di lamiera o di alluminio. E di fronte ad ordini ricevuti la sera, è in grado di stampare, quindi queste parti di ricambio, piccoli pezzi di plastica, non credo però ai sistemi frenanti, forse non ancora, ok? E di consegnarli a casa vostra, loro dicono nel giro di 12 ore, praticamente dalla sera alla mattina. Non solo, no? Quindi stamattina si parlava di, tu parla, no? Chiedevi a Venier dell'economia circolare. Questo tipo di manufacturing distribuito dovrebbe essere visto come una grande occasione dal punto di vista dell'economia circolare. Se oggi l'UPS distribuisce queste parti, ma chi impedisce che domani, voglio dire, possa fare anche, ritirare, no? Quelle che sono le parti esauste, le parti consumate, e utilizzarle immediatamente per riciclare il materiale e nel giro di poche ore, che era quello che diceva Veniera, e nel giro di poche ore riportarli sul mercato. A chi non piacerebbe lavorare per un'azienda che fa queste cose? A chi non piacerebbe? Perché parliamo di persone, e le persone sono chiavi nella innovazione digitale, ok? Abbiamo un problema di leadership, sì. Abbiamo anche tanti strumenti. Insieme di pari passo con l'innovazione digitale. Sono stati messi a punto, e molti di voi li hanno già provati, strumenti di design thinking. Ma che cosa serve il design thinking? Sì, in parte serve a immaginare l'impresa del futuro, in parte. Ma in realtà serve a fare in modo che in azienda le nuove idee, le nuove iniziative che sono legate alla digitalizzazione, siano figlie di tutti. E così il team porta avanti i progetti, ancora di più nell'innovazione di quanto non si facesse un po' di anni fa con l'ERP. È finito il tempo, grazie. 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 Grazie a tutti